Pagelli e non facili per questo Milan Lecce 2-2, ma iniziamo subito. Donnarumma 6,5, pari un rigore e già è tanto, pari un rigore non puoi dire altro, il secondo gol è quasi imprendibile. Conti 5, questo ragazzo da quando è ritornato all'infortunio non riesce a trovare nella condizione atletica la serenità, fa troppi errori strani di concentrazione, il rigore è colpa sua. Donnarumma 5, Musacchio 6, ha fatto il suo, però è così lo stesso per Romagnoli, quando Lecce ha pressato, un po' ha ballato, così come anche Romagnoli, anche se il capitano ci mette sempre più grenta, però 6 anche per Romagnoli, non di più. Hernandez 7, anche se nel secondo tempo ha subito un po' il calo, tutto il calo del Milan, ma anche in quel calo lì lui ha prodotto qualche palla, il primo tempo era stato fantastico da parte di Hernandez, 7 è un giocatore ottimo. Biglia 5, Biglia 5, aveva votato 6 fino al 2-1, più che altro perché era un voto della vittoria, ma col 2-2, vedete, Biglia è il centrale, il centrale è davanti alla difesa, se la squadra perde di tono è perché perde di tono a centrocampo, Biglia è uno di quelli che è andato giù di condizione nella partita stessa, che si 6, so che è stato fischiato, ho sentito i fischi di San Siro, però ha fatto il suo e questo, quello che può fare, non ha il dinamismo dell'anno scorso, perché secondo me anche la posizione è un po' diversa, gli si chiede di fare più gioco e lui non ha i piedi buoni per fare quel tipo di gioco, 6 comunque. Paquetà 6,5, vivace, vivace fin dall'inizio, a me era piaciuto tantissimo il primo tempo, come tutto il Milan era piaciuto il primo tempo, dopo è calato il Milan e è calato anche lui, questo è tipico dei brasiliani, comunque è calato fino a un certo punto, perché comunque c'era, era in partita 6,5, Susso 5, anche lì è un calo degli ultimi minuti incredibili, il secondo gol, se ci fate caso, del Lecce, lui aveva perso una palla sanguinosissima, la difesa è tutta un po', avevano perso concentrazione su quella palla che aveva perso lui, per il resto ha fatto i soliti crossi al centro, ma niente di più. Leao 5, era partito che ho detto, vabbè, fa una doppietta, farà due gol, dopo è scomparso, sinceramente io non l'ho visto, non ho visto Leao nel primo tempo, non ho visto fargli fare nulla. Celanogulo 7,5, il gol fantastico per tutta la partita, ma fin dall'inizio, io l'ho visto, fino dai primi 60 secondi, ho visto un giocatore, era in palla e si vedeva, tutti i passaggi, ha indovinato tutto, se il Milan stava vincendo, lo doveva, a Celanogulo 7,5, forse una migliore partita di Celanogulo col Milan. Dei subentrati, Piontech 6,5, ha segnato, si è sbloccato e questo non è da poco, Cronici 5, è entrato ma non ha dato sostanza alla squadra, Rebici 6, a foto delle cose invece molto positive, è un giocatore che secondo me verrà utilizzato molto. Pioli 5, sapete quando entri, subentri a qualcuno, di solito dai qualcosa alla squadra, la squadra al cambio allenatore di solito vince quasi sempre o quantomeno, avete visto Sampidori, Arranieri, non mi è sembrato, sì, i primi minuti del, ma dopo nell'intervallo cosa si sono detti, cosa gli ha detto ai giocatori, perché è entrato un altro Milan e là, secondo me, Pioli ancora non c'era questa squadra in mano, quindi 5. Detto questo, ragazzi, ovviamente adesso si va a fare il video, io sto facendo queste pagelle, la partita è finita 20 secondi fa, niente di più e niente di meno, vi ringrazio, ciao a tutti.